Radio Radicale, siamo con Guido Signorino del comitato No Ponte per parlare del Ponte sullo Stretto. Come tutti sanno, in Commissione Trasporti e Ambiente è all'esame un decreto per la rinascita della società Ponte sullo Stretto, che ha provocato tante polemiche. Voi battete contro il Ponte sullo Stretto, quali rischi vedete in quest'opera? In un ponte ad una campata dove dovrebbe passare un ponte di 3.000 metri lungo, oltre 3.000 metri, dovrebbe passare oltre che una strada anche una ferrovia e con una campata. Allora, quali sono i vostri elementi di preoccupazione in base alla rinascita di questa società? Dunque, il fatto è che per fare un'opera pubblica, per fare un'infrastruttura di trasporto, non è sufficiente che ci sia un'idea, come dire, bella, affascinante, affabulante. Occorre che sia verificata la reale utilità di questa opera. Ora, nel caso del Ponte sullo Stretto di Messina, la bella idea tecnica che alcuni tecnici ritengono impraticabile anche sotto il profilo strettamente costruttivo, in realtà sarebbe totalmente controindicata. Il ponte, per poter stare in piedi dal punto di vista economico e finanziario, e il costo del ponte è qualcosa di ancora totalmente indefinito, avrebbe bisogno di un fatto tecnico che va contro le priorità trasportistiche dell'Unione Europea. Avrebbe bisogno, cioè, che il transiti sullo Stretto di Messina e sul ponte li evitassero in maniera indefinita, fino a raddoppiare, nelle previsioni del ponte, passando da 4 a oltre 8 milioni di mezzi da trasportare. Ora, questo è esattamente l'opposto di ciò che, diciamo, è utile alla rete dei trasporti nazionali. L'88% delle merci attualmente in Italia viaggia sui camion, viaggia sui mezzi gommati, e questa percentuale deve diminuire, perché gli obiettivi trasportistici sono la riduzione del trasporto gommato e, diciamo, l'incremento dei trasporti alternativi, che sono il treno e soprattutto le autostrade del mare, lo cosiddetto short-sicino. Il ponte va in controtendenza, quindi sotto il profilo ambientale non è soltanto la devastazione delle aree che... Quante case verrebbero abbattute? Migliaia, migliaia di case tra due città e sarebbero decine di migliaia. Il numero è maggiore in Sicilia? Il numero è maggiore in Sicilia perché, diciamo, la rete di costruzione della viabilità e della ferrovia di accesso al ponte è molto più invasiva. Ci sono circa 40 chilometri di scavi di ferrovia e di strade che devono essere costruite. Però economicamente il ponte non ci sta e sarebbe un danno anche all'economia siciliana e all'economia calabrese. Senta, vuole dire qualcosa sul Consiglio di amministrazione della nuova società che non prevede la presenza dei sindaci? Diciamo, vengono posti avanti i fatti tecnici che sono inesistenti. È grave che non si consente alle comunità locali di essere rappresentate. È vero però che la società stretto di Messina nasce con un comando che non può essere accolto perché la società stretto di Messina nasce per fare il ponte e per fare un progetto che è già definito. Il ponte ha una campagna. Questo per cui non sarebbe condivisibile l'oggetto sociale e non lo è ancora dal punto di vista tecnico perché l'analisi costi benefici che è stata fatta sul ponte che risale al 2002 e non è stata aggiornata, è stata fatta male. È tecnicamente irricevibile perché confronta il ponte con se stesso. Senta, regge una ferrovia su un ponte di 3.000 metri considerando il caso del ponte di Acasci? Non è nelle mie competenze dire questo. Io insegno economia e non ingegneria dei trasporti. I precedenti indurrebbero a una prudenza estrema perché per l'appunto non solo il ponte di Acasci ma anche il ponte dello Storebelt in Danimarca nascevano per essere... Però che si trova su un fondale molto più basso. Sì esatto, su cui è stato possibile fare un tunnel in alternativa. E però questi nascevano per essere ferroviari anche e poi sono rimasti solo stradali. La lunghezza siamo a due, siamo alla metà. Per cui non è... ma ci sono altri problemi, diciamo, sotto il profilo costruttivo che sono stati avanzati. Cioè il problema della snellezza del ponte, per cui in lunghezza la struttura ha bisogno di essere sempre più ampia per sostenere il peso. Ma a questo punto un peso eccessivo per una lunghezza così grande rischia di far crollare il ponte. Il ponte potrebbe non reggere se stesso. Questo lo dice Federico Mazzolani che è, diciamo, il caposcuola dell'ingegneria dei materiali e delle costruzioni in Italia. Ma poi anche, diciamo, i giorni di esercizio del ponte rispetto alla capacità di reggere al vento, magari reggerebbe al vento. Ma è chiaro che una struttura così lunga ha bisogno di essere elastica. Il che vuol dire che è soggetta a fortissimi spostamenti. E il treno non può sopportare questi spostamenti. Per cui là è probabilmente neanche le macchine. Per cui i giorni di chiusura del ponte non sono neanche stimati. Per cui il ponte tecnicamente ha problemi di funzionalità. Quanto vengono pagati i membri del Consiglio di Amministrazione? Della società che nasce? Non lo so. Non lo so. Bisognerebbe chiederlo a loro. Va bene. Aspetta, grazie. La ringrazio. Allora ringrazio il dottor. Signorino. Dottor Signorino del Comitato No Ponte. Comitato Invece del Ponte, Cittadini per lo Sviluppo Sostenibile dell'Area dello Stretto. Ok, grazie. Grazie a voi.